Musica Musica Amiche e amici di Media24, ben trovati a questo speciale che ai noi dedichiamo ad un anniversario che non avremmo mai voluto celebrare e che sinceramente non pensavamo neanche di dover celebrare. Il primo anno della guerra russo-ucraina, questo conflitto che sembrava inizialmente dovesse risolversi in poche settimane e il quale soprattutto sembra ancora ben lungi dall'avvicinarsi ad una conclusione. Anzi, sembra che si facciano sempre più concrete le possibilità, purtroppo, di un allargamento, cioè che questo conflitto da una guerra regionale possa diventare qualcosa di molto peggio. Ne parleremo con ospiti illustri collegati da remoto, ospiti che appartengono a entrambi gli schieramenti perché sappiamo che anche quello della guerra e della partecipazione attraverso l'invio di armi dell'Italia è un argomento estremamente divisivo anche all'interno della nostra opinione pubblica. Lo faremo con questi ospiti ma soprattutto lo faremo con un amico, con il professor Guglielmo Cevolin. Buonasera, professore. Buonasera. Che è appunto un docente universitario, un esperto di geopolitica ed è anche il presidente di Historia Limes Club. Professore, allora, si sente sempre ripetere come un mantra, no? C'è un aggressore e c'è un aggredito, però forse è una lettura un po' semplicistica di questa guerra che ha, come dire, motivazioni che vanno anche oltre alle solite che sentiamo dire, cioè da una parte ci sono i difensori della democrazia e della libertà, dall'altra ci sono le autocrazie. Ecco, forse anche in questo caso, come sempre nella storia, le responsabilità sono di una parte e anche dell'altra. Ma diciamo intanto, anche da un punto di vista fenomenologico, la guerra non è solo tra l'Ucraina e la Russia, ma è sicuramente tra la Russia e l'Occidente, un Occidente che è inteso da Putin come Nato e Stati Uniti, ovviamente con gli Stati Uniti al vertice. E l'impressione che si può avere è che Putin ha fatto questo, quello che ha fatto, cioè un atto che nessuno aveva previsto. È un atto sicuramente da condannare, l'invasione dell'Ucraina. È un atto, tra l'altro, che è da condannare dal punto di vista dei russi, perché stanno morendo tantissimi giovani russi e soprattutto dal punto di vista degli obiettivi di Putin sono falliti, perché ha ricompattato la Nato, sperava di dividere l'Occidente e l'Europa soprattutto, l'Europa pensava, in realtà ci sono state delle titubanze della Germania sui carri armati, sull'invio dei carri armati, sull'invio, sul fatto di approvvigionarsi ancora con Nord Stream 1 e 2, con il gas, con le risorse energetiche russe. Ma a parte questi tentennamenti, in realtà ha ricompattato proprio i suoi, tra virgolette, nemici. Ma in realtà la mia impressione... Quindi dal punto di vista politico, diciamo, l'intervento militare russo in Ucraina... Politico e militare è fallito, è fallimentare dal suo punto di vista di Putin e della Russia. Però andiamo a vedere la motivazione. Perché l'ha fatto? Perché secondo me voleva sedersi con Biden, con gli Stati Uniti a parlare di distanziamento strategico, di queste cose qua. Però, certo, per sedersi a trattare ha fatto una cosa di questo tipo che è inaccettabile perché ha riportato la lancetta indietro a una guerra, tra l'altro per ora come se fosse la seconda guerra mondiale e poco più, ma in realtà con il rischio, in questa escalation vediamo che stiamo dando caro armati più avanzati, stiamo dando obici, stiamo dando tanti aspetti militari anche avanzati e questo piano, che è poi quello della distinzione tra democrazie e autocrazie, che deriva già un po' dalla caduta del muro di Berlino, ma soprattutto dai primi anni 2000 si è iniziato a battere su questo aspetto, è l'aspetto tra l'altro che Putin ha criticato nel suo discorso del 21 di lunedì scorso, del 21 di febbraio, nel quale ha detto che non tollera questa distinzione tra paesi civili e paesi incivili che non si sono